Una botta? Sì, sì, no, soltanto una botta, niente di che, normale contrasto di gioco, per cui no, tutta a posta. Allora, questa intesa con i tuoi compagni, come man mano? Eh, pian piano iniziamo a conoscerci, i ritiri sono fatti proprio per quello, queste partite sono importanti soprattutto per l'intesa e penso che si è già visto qualcosa, già qualcosa di importante, cioè l'intesa sia con le due punte che con gli altri attaccanti esterni è molto buona e possiamo ancora fare meglio. Possiamo fare meglio in cosa? In cosa si cresce? In cosa vi chiede di insistere in particolare? No, cioè, il concetto del gioco è sempre quello di giocare a pallaterra e penso che negli ultimi due amichevoli si è visto e poi è normale, i tempi vengono pian piano e per quello dobbiamo migliorare soprattutto su quello. Infatti, posso più di 10 minuti che ho messo un pochino, ci siete cercati, poi ci hai giocato a pallaterra e si è visto quei cose migliori si sono viste. No, appunto, oggi si è visto che stiamo facendo un gran lavoro, si è visto che siamo stati forse un po' più stanchi del solito, però il ritiro è normale, per quello possiamo essere soddisfatti.